ciao forza ne ho ancora uno questa volta con le gambe dritte dai bravo stai diventando un campione che c'è hai preto faccio un altro dai per oggi basta hai fatto schifo leo un vero macello esci che sei stanco pianta la cretina io me ne vado a casa muoviti leo che hai che hai rispondimi ti prego rispondimi leo leo ti esce il sangue dal naso chiamate la mamma presto si chiama grimaldi presto a telefonare di corsa dal bar dille di venire subito dai la mamma di uno esce il sangue dal naso a telefonare di corsa dal naso a telefonare di corsa dal naso Scommetto che passi più tempo a nuotare che a fare i compiti Eh sì E con i tuffi? Come te la carico? Mi ha detto Marco che sto diventando un campione Bravo, Giorno Ti fa male qui? No Ma tu il salto mortale lo sai fare? Io dei salti mortali ne faccio in continuazione Ma non dal trampolino Vuol dire che sarai tu il mio struttore Eh? Fai entrare i genitori I signori Grimaldi? Siamo noi Sì, come state? Il dottore lo aspetta se mi seguite Da questa parte Leo, tesoro Ciao Leo Allora? Un tiri rossi Ce li ha da molto? Ma non so che dirle Non li avevo mai visti prima Io sì Susanna, prepara per il test di coagulazione Andiamo va Ultimamente avete notato qualcosa di diverso nel comportamento di vostro figlio Era un po' stanco Più pallido E qualche volta aveva anche un po' di febbre, vero? Pensavamo fosse normale nel momento della crescita Chi era presente quando il bambino si è sentito male? C'ero io Hai notato se tuppandosi ha battuto la testa da qualche parte? No, non ha battuto la testa, sono sicuro Scusate Dottoressa Mancinelli, puoi venire un attimo? Allora, giovanotto Paura? Eh? Non mi dica che hai paura, eh? Perché se hai paura Faccio venire da giù un amico mio Che a fai prelievi È proprio una mano santa Sai come si chiama? Te lo dico? Si chiama Dracula Già fatto Allora, che ne pensa? Dalle condizioni in cui hai ridotto il fegato dovrebbe trattarsi di epatite Mi auguro proprio che lei abbia ragione Sarebbe la prima volta da quando la conosco Perché? Perché ho paura che quel bambino abbia qualcosa di più grave Purtroppo Aspettiamo le analisi Dicato madre, quali gli auguri da parte mia? Grazie Lo che fai? Lasciamo perdere Quanto è odiosa la Mancinelli È un pezzo di ghiaccio È un terminator Ecco che cos'è Terminito Ma è così È proprio così I certi uomini purtroppo non se ne accorgono Ma l'ha visto come fa la smurfiosa col dottor Montebovi? E quello mica si rende conto che non c'è niente dentro A parte l'aceto A parte l'aceto Chi può saperlo cos'hanno davvero dentro le persone? Che cosa si nasconde in ognuno di noi? Se parlate della Mancinelli Io vorrei proprio scoprirlo Arrivederci, Platania Ciao Susanna Arrivederci, dottore Arrivederci, dottore Senti con me? No Prima posso dare un'occhiata a quel bambino Quello che hanno messo nella corsia di spillo? Sì Ciao Ciao Che fai? Già te ne vai? Io sì Lui invece aspettirà Mancinelli, vero? Madonna Dottore E questa cos'è? È la mia barca Lo sai che una volta noi abbiamo fatto una regata? E tu che facevi? Mozzo di prima Arrotolavo le scotte E com'è finita la regata? Primi Ha detto Marco che noi due da grandi Con la barca facciamo il giro del mondo Oh mi raccomando Avvisatemi Se per quel giorno i bambini stanno tutti bene L'ospedale è chiuso Quasi quasi vengo anch'io Ok va bene Ci portiamo Grazie Io intanto Imparo a nuotare E tu impara a stare a letto qualche volta Vai Arrivederci Arrivederci dottore Grazie Amore dolce È veramente simpatico quel dottore Amore? Mm? Amore Grazie Questa è una tua ipotesi, non è mica detto che ti abbia scavalcato per una raccomandazione Secondo me non c'è altra spiegazione Io ho già otto anni di servizio proprio nel reparto in cui deve essere assegnato il posto d'aiuto Non è possibile che non continui niente, questi otto anni Evidentemente il dottorato di ricerca in Germania e tutte le pubblicazioni di questa dottoressa Mancinelli Per la commissione hanno contato di più Sai che se ne fanno i bambini dei suoi pezzi di carta? No, aspetta un momento Qui risulta che lei ha anche fatto l'aiuto in Germania E per la legge sul libero scambio dei titoli europei ha pieno diritto a questo posto Ma il contatto con i bambini, l'assistente l'ha fatto mai? No, questo non risulta Allora puntiamoci sopra Chissà come l'ha avuto quel posto Per dire che è raccomandata bisogna dimostrarlo E questo è compito tuo, no? Ma insomma sei il suo avvocato o sei il mio? Eh va bene, va Firma qui Qui e qui, ecco Ciao Silvia Come stai oggi? Mi fa male un po' qua Oh, sarà meglio dare un'occhiata Fai... Ah 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 Sai una cosa? Direi che ormai sei quasi guarita Mi sa tanto che domani ti rimando a casa Dov'è la tua mamma? Mamma sta al bagno a fare la pipì A quanto pare l'hai fatta anche tu Susanna? Sì? Quante volte le devo ricordare di controllare che i bambini siano sciutti? Venga a vedere il letto di Silvia Perché non l'ha controllato? Ma io l'ho fatto Evidentemente allora l'ha fatto male E comunque il controllo andava ripetuto più volte Adesso vado a prendere la biancheria di ricambio Che sta aspettando ancora? Cerchi di fare in fretta Dottoressa Mancinelli no eh Guardi che qui non usiamo la prusta Questo tono lo usi a casa sua Con le sue cameriere Senta i bambini vanno cambiati in continuazione Con un tono con un altro E le mie cameriere non la riguardano per niente Inoltre direi che non è il luogo adatto per questa discussione E la smetta di attaccarmi sfruttando ogni minimo pretesto Si rassegni perde soltanto il suo tempo Aspetti Aspetta Tanto prima o poi gliel'avrei detto Mi sarei rassegnato a cedere il mio posto a chiunque altro ma non a lei Il suo stile, i suoi abiti firmati, la sua pettinatura Lei è l'incarnazione di tutto quello che può essere detestabile Specialmente in un posto come questo E un'altra cosa me la lasci dire Quelle scarpe di coccodrillo Sono semplicemente orrende Mi dispiace per lei caro dottore Perché si dovrà rassegnare anche le mie scarpe A me sembrano perfette E le sembra male dottoressa Perché questo è un ospedale non un grande albergo Qui si soffre Non si viene per fare carriera o per farsi vedere Lei è soltanto un capone dottor Magri Un capone frustrato Angela Spillo Ti devo dare una cosa Un regalo fatto da me e medesimo Che cos'è? Inferno paradiso, inferno paradiso, inferno paradiso In questo ospedale c'è un bambino che ti vuole molto bene E si chiama Spillo Grazie Meno male che ci sei tu Qui dentro sei l'unico che mi sopporta Oh, eh Guarda Chi? Guarda Pure l'uomo col Mercedes da 200 milioni a passa Certo che non le manca nulla sta stronzetta Senti, sarà pure una stronzetta Ma io una così me la sogno la notte E anch'io Ma per me è un incubo Andiamo, va Che mia figlia è a casa Serena, pulisci qui per favore Sì Papà Che c'è? Ti devo chiedere una cosa Però non svenire Che cosa hai combinato? No, io niente Si tratta di mamma Ha bisogno di 10 milioni Glieli puoi prestare tu? 10 Potrei sapere che è successo È una sorpresa Giura che non mi tradisci Non si giura, lo sai Va bene, allora indovina Si è venduta a casa? Acqua I gioielli? Acquetta Non ha più una lira? Fuoco Lei vuole aprire un negozio di poster con altri due tizi Mica è una cattiva idea Questo è il lavoro giusto per tua madre Sì, però non ha lavorato a mesi Gli ha chiesto un prestito alla banca Di 10 milioni E siccome hai paura che non glieli diano Hai pensato di chiedergli a me? Eh? È così? Eh già Lo sai anche tu come è fatta la mamma Lei è convinta che glieli danno subito quei soldi Io purtroppo, Serena, in questo momento non posso Comunque non è un problema tuo Sì che è un problema mio Io ci abito con lei Invece tu no Eh Adesso andiamo Devo studiare un caso molto grave 10 milioni Perché c'è mia? Ma pleppe, questa qui è l'ultima settimana che mi vedete qua E poi dovete baciare stamano Perché sta per compilare la schedina miardaria Vabbè, ma poi coi miliardi, ma che c'è fai? Che c'è faccio? Me compro tutto, no? Me compro pure questo ospedale qua Ma non lavorato, eh? Che fai stasera? Ancora Oh, ma guarda che sta diventando il mio addario, sai? Allora, un po' Juventus, Abdoria? Uno! 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 L'Italia non si possono mettere due risultati Basta uno solo, vale uno Sì, hai messo i soldi te Metti il primo Uno Uno Oh, questo Ragazzi, qua mi dovete fare il miracolo, eh? Milan, Roma Due! Roma! Roma! Sì, buonanotte Mettiamo X, è così e se ne parla più Allora, vediamo qua Udinese Genova Uno! Uno? Uno Dove fare giusto Uno Ci sta una quota? Io di calcio non ci capisco Beh, la sta che parlo Andrea Cerena Uno 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 Esci qua, faccio io Che t'è successo? Mamma mia, come sei fragile Mimmo, vieni qua Leo sta male Vieni Sì? Sto arrivando Purtroppo le analisi del sangue confermano quello che pensavi tu 70.000 bianchi, 40.000 piastrine e 8 grammi di emoglobina e molte cellule leucemiche Le hai ripetute? Sì, sì, più volte Ma purtroppo non ci sono dubbi Quando capitano queste cose viene voglia di cambiare mestiere, vero? O forse il contrario Ah, come mai siete qui dentro voi due? Le analisi di Leo Grimaldi La dottoressa Mancinelli Federica Neri, piacere La nostra Il primario si è visto? No, per... Chi sarà assente di te con il genitore? Ci vado io Senta Dottoressa La nostra faccia Ha ragione Ce la fa? No, non credo No, 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 non è possibile No, il mio Leo La prego La prego La torna subito Mi dica che non è bene Mamma, papà Marco Marco vai di là per favore Vai a tenere compagnia a Leo Su Leo morirà Ma cosa ti salta in testa, Marco? Leo deve restare qui ancora un po' di tempo Poi tornerà a casa Su vai da lui adesso Non lasciare un suono Si calmi signora, si calmi Ma perché devo calmarmi? A che serve? Come faccio? Mio figlio sta morendo Adesso basta Lei non ha il diritto di negare a Leo e a se stessa la speranza di farcela E questa speranza esiste Perché la leucemia non è una condanna definitiva Oggi abbiamo delle ottime armi per combatterla Ci sono dei farmaci potentissimi Che possono bloccare la fase acuta Sentite Io non voglio illudervi con delle sicurezze che non ci sono Ma voglio darvi fiducia Con delle possibilità che invece ci sono Sono vere, sono reali Noi faremo Tutto quello che lei ci dirà Per ora è essenziale una cosa sola Credere che ce la faremo Crederci quando siete con il bambino Ma anche quando siete fra voi E anche con il fratello di Leo Perché ha il diritto di sentire Che non è una battaglia perduta in partenza Angela Ma? Guarda via? Sì È stata una giornata molto faticosa E ho voglia di andare a casa e riposare Ah Allora non ti va di portarmi al barco a te C'ho fame Certo che mi va Anzi mi è venuta un'idea migliore Sempre che il primario sia d'accordo Sono tutti di me Mia madre Ogni volta che mette il naso fuori di casa Ne raccoglie uno Meno male che esce poco Altrimenti non ci sarebbe più posto per noi Porti a tavola quando è pronto E apparecchi per due Sì ci abbiamo fame Subito signora Ammazza che casa Allora tieni i soldi Tutto merito di mio papà Aveva un certo intuito per gli affari E l'ha saputo salutare E allora dove sta? È morto A te ti è andata meglio che a me Ascoltami Tu ora fai un giretto per la casa E intanto io saluto mia madre Ok? Perché c'è anche lei? Sì Ho fame Mi tocca mangiare con tua madre Sta tranquillo Non preoccuparti Lei vive in un appartamento da sola Si entra da lì E io sto al piano di sopra Ok però fai presto Perché ho fame Agli ordini generale Era ora Ho dovuto lavorare fino adesso Non farmi sentire in colpa Ti prego Che cosa hai? Non ti senti bene? No niente Solo un po' stacca Lo credo Se non la smetti con queste porcherie Quante ne hai prese oggi? Neanche una Bugiarta Almeno hai mangiato qualcosa Sì certo Ma non è che avessi molta fame stasera Comunque Se ti va di portarmi un dolcetto Io non faccio complimenti Ma mamma Domani andiamo a fare una passeggiata in centro Io e te da sole Così almeno facciamo un po' di shopping Qualcosa in contrario No no anzi Ora me lo porteresti quel dolcetto? Certo Grazie Se prima devi fare qualcos'altro non preoccuparti Posso aspettare Chi è questo? Un mio amico Un medico? No Allora non mi piace Dai spostati Uno Due Tre Da grande Vorrei avere una fidanzata come te Bionda e con gli occhi azzurri Con una casa bellissima come questa Dove non hai neanche paura che ti vedano i giocattoli Signora è in tavola Andiamo a mangiare Se non si fredda Non stavi morendo di fame Va bene signora? Benissimo Grazie Topolino è la gomma Mi serve una gomma nuova La mia è furata Te la riparerò io Leo che hai? Perché treni? Hai freddo? Vuoi che vado a chiamare la mamma? Io vado a chiamare la mamma Mamma Che c'è? Leo trema A freddo Adesso vado a chiedere un'altra coperta Saluto papà e poi vengo subito Vai Scusami ma devo tornare in camera Ci sentiamo più tardi Va bene? Ciao Capitola Non Tu che ne pensi? Mi sembrano le ciemie più gravi che abbiamo mai visto. Che hai deciso? Cominci la chemioterapia? Tra un po' comincio la prima, speriamo che la sopporti. Dottor Magri? Che c'è? Ha telefonato il primario. Beh? Cioè? Niente, è stato investito dalla macchina mentre veniva qua. In bicicletta? Certo, quello a fuori destaco i ragazzini, se credo il ragazzino pure lui. Insomma, dice che starà a casa tre o quattro giorni e ritorna con una gamba ingiassata. Già ce ne stanno pochi dei malati qua dentro, ce mancava pure il primario. No, devo controllare l'ecografia di quella specie di peritonite che abbiamo visto ieri. Allora, ciao. Ciao. Infilare nel tappo il tubo numero uno. È infilato. Controllare valvola di flusso. Controllata. Appendere buccione a testa in giù. Appeso. Perfetto. Tutto procede regolarmente. Susanna, sei pronta per l'inizio delle operazioni? Prontissima. Ok, Leo. Ora ti colleghiamo agli apparati di trasmissione spaziale. Ma con tutto il caldo che fa nell'astronave ti sei fatto dare un'altra coperta? Sì, perché prima tremava tutto, ma poi gli è passato subito. Come subito? Subito. Ancora prima di mettergli la coperta? Sì, subito. Quando mamma è tornata già non tremava più. E gli è successo altre volte? Non credo, non che io sappia almeno. E tu? L'hai visto altre volte a tremare così? Una volta sola, prima di tuffarsi quando si è sentito male. Anche in quel momento aveva freddo e tremava. Susanna, fermati. A tutte le unità operazione annullata, sono stato chiaro? Certo, dottore. Per oggi niente collegamento spaziale. Ci ritiriamo, dobbiamo trovare nuove armi. Ma che è successo, dottore? Perché ha deciso di sospendere la terapia? Niente di grave, signora, stia tranquillo. Allora? Senti, io prima di cominciare la chemioterapia, aspetterei i risultati del liquor che ho fatto fare. Se sotto quella leucemia c'è un'infezione, con quei farmaci gli togliamo le ultime difese immunitarie e lo perdiamo. Un'infezione? Ma non diciamo sciocchezza, per favore. Il fratello di quel bambino parlava di un forte tremore e io credo che fossero convulsioni. Bruno, ma tu hai mai sentito parlare di un esordio leucemico con convulsioni? Io no. E noi per la diagnosi del fratello di dieci anni ricominciamo tutto da capo e ritardiamo la terapia a un bambino leucemico. Io non lo so, ho solo diventato scemo improvvisamente oppure mi sta prendendo in giro. Io sono d'accordo col dottor Montebovi. Non avevo il minimo dubbio. Comunque per oggi non si fa più niente. Ho inventato una bugia per tranquillizzare la madre. Va bene, per oggi saltiamo. Domani però iniziamo la chemio. Domani però iniziamo la chemio. In un solo caso in dieci anni lo dicevo io. Ma se ti dico che in tutta la storia della medicina di esordio leucemico con convulsioni ce n'è stato uno solo. E poi si è scoperto che quelle convulsioni... E più se ci facciamo venire tutti i dubbi del mondo allora facciamo prima a chiudere bottega e lasciare i bambini al loro destino. Ma ne aspettiamo il risultato del liquo. No, perché quel bambino potrebbe peggiorare ancora. Non c'è tempo da perdere, lo vuoi capire? Ma se sbagliamo corriamo il rischio di perderlo. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buon caffè? No, no, grazie. Volevo farti vedere una cosa. E questo dove l'hai rimediato? Mi sono collegata con la banca dati di Houston. Santo cielo, che cos'è? Avete fatto tutte e due la stessa ricerca. Cominciano a venire dei dubbi anche a te. Sì, ecco. Diciamo che ci ho riflettuto e che... Altre 24 ore con gli antibiotici le rischierei. Va bene, io non condivido. Ma siccome sono minoranza, d'accordo, altre 24 ore. Dopodiché però cascasse il mondo, cominciamo, eh. Bene, a dopo. Vado a mettermi il camice. Dottoressa. Dottoressa. Guardi che se scappa rischia di perdere un'occasione irripetibile. Volevo ringraziarla. Sa una cosa. Io mi ero sbagliata sul suo conto. Ero convinta che lei fosse una persona rozza ma leale. Invece... Il mio avvocato ha ricevuto copia del suo ricorso. Insinuazioni di cui non avrei creduto capace neanche lei. Beh, con una carriera così veloce fatta girando gli ostacoli, prima o poi se ne fa cadere qualcuno. Dottor Magri. Alla fine la verità verrà fuori. A quel punto è chiaro che uno di noi due qui sarà di troppo. Dottoressa. Che cosa vuole ancora? Senta, io faccio un salto da Leo e poi scallo. Ci pensa lei a non far fare cretinate a Montebovi? Senta, io faccio un salto da Leo e poi scallo. La riconosciamo un po'. Bello, eh? Eh sì, bellissima. Questa la conosci? Eh, questa? Sì. Questa? No, non la conosco. È il tipo di vela più antica. La riconosci perché hai il penone appoggiato all'albero. Hai capito. Leo, ho portato un caffè. È appena fatta, la ringrazio. E questa? Leo, lascia in pace il dottore. No, no, signora, questa la conosco. Questa è la vela latina, molto antica. Dovevamo ancora nascere tutti e due. Non te ne vuoi? Eh sì, Leo, vado a casa a riposare un po'. E poi vado a cercare un regalo per Serena, mia figlia. Oggi è una giornata speciale. È il suo compleanno. Va bene. Allora mi studio tutti i tipi di barche e poi tu mi interroghi. Va bene. Allora dovrò studiarmi pure io. Mi raccomando, eh? Arrivederci, signora. Arrivederci, dottore. E grazie di tutto. Ciao, Leo. Ciao. Ci vediamo domani. Mamma, quando torniamo a casa? Presto, amore, presto. Allora non vedrò più lui. Sì, certo che lo vedrai ancora. Verremo qui a salutarlo ogni volta che vorrai. Tutti i giorni. D'accordo. Tutti i giorni. È il regalo più bello della mia vita. Sì, ma vai piano, vai piano. È mitica, è super. Eh, meno male, anche il prezzo è super. È stavolosa, compra la chieduta qua, così giochiamo insieme. È un regalo più bello. a te tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te poco ma che vedi no no non vengo poco però un dito eh un dito non di più ora posso scattare i regali mamma sì certo scatto il tuo nome andiamo per il tuo peppe speriamo che il mio di piazza bella festa è successo qualcosa una cosa da niente beppe soltanto un sogno è andato in pezzi tutto qui il tuo negozio sono disperata sono veramente disperata ma insomma vuoi spiegare che è successo o no oggi la banca mi ha rifiutato il prestito che mi doveva fare per il negozio e io non avevo neanche preso in considerazione il fatto che potesse succedere come al mio solito quanti anni sono che mi conosci dieci ti sembro cambiata ti sembra che la vita mi abbia fatto crescere ti sembra che sia molto maturata che mi ha cambiato un sacco di cose e ho anche una figlia qui dovrei insegnare io sono un sacco di sperato Clara ti puoi consolare? eh magari ora guardami guardami bene ho 28 anni da 5 lavoro in ospedale praticamente gratis vivo ancora con mamma e papà mi posso permettere se no un cinema al mese quando è grasso che cola mi offro una pizza sotto casa poi se per miracolo rimedi una ragazza ma dove la volto da mamma? ma quella scappa trotta il massimo di libidina che provo nella vita è quando faccio un'iniezione senti se è vero quel detto ma il comune mezzo caudio dovrei essere a settimo cielo per me tu dovresti farti bene a dire io l'ho già pensato le prossime ragazze me le passo a lutto è sempre che trovo i soldi eh non ti preoccupare vedrai che lo troviamo in modo di farti avere il prestito sì come? ci penso io allora stiamo a posto perché non venite di là? santo cielo ma che c'è Clara? eh che c'è che da domani si torna a lavorare al ministero buste, francobolli, fax, fotocopie sì un attimo arrivo, attenga prego che è successo? non lo sai io avevo un progetto che tenevo moltissimo ma veramente molto mi è saltato in aria per dieci schifosissimi milioni che non mi hanno dato mi piacerebbe tanto darti una mano in questo momento proprio non ce la faccio oltretutto non posso nemmeno più contare sull'aumento di stipendio lo sai che ho perso il concorso d'aiuto no? Clara è un momentaccio questo il trittivo della sfiga eh? non lo sappiamo io allora che faccio? ti aspetto, siamo insieme? è inutile Bruno che mi aspetti con me stai perdendo soltanto tempo poi basta lo vuoi capire? siamo scusate che c'è? lei sta male, Sir Platani ha detto che è urgente mi prego fate presto mio figlio si calmi non ci riesco non ci riesco Marco Marco non lasciarmi qui c'è vento ho paura è freddo Marco mamma mamma preparami l'altro pina ti prego non fare così amore mio non avere paura la tua mamma è qui con te c'è nessun pericolto poco qualità e povero dolce amore mio stia tranquilla signora faremo tutto quello che è necessario per il suo figlio non si preoccupi mamma mamma venga signora venga con me lei prepara una bella camomilla calda e quando tornerà qui vedrà che il suo figlio starà molto meglio coraggio perché mio figlio respira così dottore? che cosa? mi dica che cosa? non si preoccupi stiamo facendo il possibile lasci fare al dottore venga con me reagisce pochissimo e ha ripresa sanguinare dal naso anemico com'era collassato di tutto questo dobbiamo ringraziare Magri e i suoi dubbi del cavolo anch'io però avevo gli stessi suoi dubbi e continuo ad averli se vuoi saperlo io comunque vado a preparare la prima somministrazione di camioterapia perché se no noi iniziamo subito qui ci freghiamo tutto al midollo continuiamo con gli antibiotici almeno fino a domani è rischioso può andare in sciocche e a quel punto lo perdiamo senti non ti ci mettere anche tu con questa sciocchezza attaccagli il cardiomonitor sua platanea mi porti tutto per la chemio inizia con questo no no a quell'altro questo allora sì Susanna non ti muovere da qui e segui attentamente l'andamento della frequenza cardiaca stia tranquilla piuttosto svengo ma non mi muovo io corro a fare una telefonata torno subito dai forza rispondi poverino è crollato non capisco perché papà non cambia mestiere sì è più facile che il tuo pesciolino rosso si metta a cantare ma dove si sarà cacciato vuoi rispondere che gli serve la mano dottore no grazie ho chiamato magri sul teledream dieci minuti fa ma ancora niente boh mi pare strano è condannato dalla figlia che stasera fa il compleanno eccola certo questo però il cicalino ce l'ha cucito addosso hai visto mai avesse preso un coccolone a questo paolo svegliati lasciano dormire non lo lascio mai in passione è teledream paolo oh paolo guarda che ti suona tutto porca miseria magri finalmente sì ho capito arrivo subito mi dispiace è un'urgenza devo correre in ospedale ciao cucciolotta e ancora tanti 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 auguri oh clara mi raccomando sì ciao grazie figurati lo sapevo io quelli credono che papà sia Superman e invece no è l'uomo invisibile po' di lì no è lì non è lì no è lì Scusi. Siamo pronti, sorella, andiamo. Buonasera. Fermati. Tu quella flebo non la fai. Dovessi impedirtelo con la forza. Magri, togliti di mezzo, per favore. Quel bambino è gravissimo, ha collassato e abbiamo perso fin troppo tempo. È un tipo di leucemia che va attaccato subito. Oppure vogliamo aspettare che muoia? Quella che hai in mano in questo momento è un'arma micidiale che può uccidere Leo. Se sotto quella leucemia c'è un'infezione licorale, il rischio è troppo alto. Aspettiamo fino a domani, avremo i risultati del liquor. Io non lo so. Forse voi non vi rendete conto che se ha una crisi leucemica quel bambino non ce la fa. Sì, me ne rendo conto. Ma tu quella flebo non la fai lo stesso? Io la faccio perché tu non puoi impedirmelo. Ah sì? Eh? Allora? Tu sei matto e dovrai assumerti tutte le responsabilità di questo gesto. A me interessa solo che Leo non muoia. Io ti consiglio di avvertire il tuo avvocato perché quello che hai fatto è da codice penale. Domani proporrò un provvedimento disciplinare nei tuoi confronti. Buonanotte a tutti, signori. Ammesso che è riusciata a dormire. Io vado a trovare Leo. E grazie per quello che ha fatto, dottoressa. Non deve ringraziarmi, dottore. Non l'ho certo fatto per lei. No, no, no. È buio. Vado giù. Dove sei, papà? Tesoro, sono qua. Stai calmo. Non respiro. Ho paura. Mamma. Scusate. Marco. Iniziamo con un antibiotico in vena e prepara una flebo. E lei, ritrovi subito tutte le piastrine che può. È urgente. La prego, dottore. Faccia qualcosa. La supplico per carità. Stia tranquilla, signora. Bisogna aspettare l'effetto dell'antibiotico. Vedrà, tra qualche ora la febbre sparirà. No. No. Oh. No. Oh. Mmm. Grazie a tutti.